Puntata numero 267 Anche questa sera Quanti ospiti, quanta musica, quante novità La finalissima del talent, del musical, sezione musical Sarà molto difficile perché sono bravissimi È vero, bravissimi, belli, veramente di grande professionalità Una giuria doc di qualità Quindi se siete curiosi restate con noi Non cambiate canale Anche perché noi abbiamo subito il nostro rito 3, 2, 1 Che forza la musica!